buongiorno ben ritrovati sul mio canale youtube da elio volevo ringraziarvi per essere 810 iscritti grazie cari iscritti iscritti grazie a tutti voi guarda che ula hop guarda come viaggia si gira si va si fa gira l'ula hop ok ragazzi io adesso vi dedicherò una canzone sempre queste canzoni dirette o mamma mia una si dai ancora una chissà come vanno a far roteare col collo io non ci riesco col collo ma non importa chi se ne frega dell'op lanciamolo lanciato l'op ok comincio con la canzone e come sempre un abbraccio tutti voi si va la verità mi fa male lo so la verità mi fa male lo sai nessuno mi può giudicare nemmeno tu la verità mi fa male lo so lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più la verità mi fa male lo so dovresti pensare a me e stare più attenta a te c'è già tanta gente che ce l'ha su con me chi lo sa perché o non ho il diritto di vivere come può la verità mi fa male lo so per questo una cosa mi piace e quell'altra no la verità mi fa male lo so se son tornato a te ti basta sapere che ho visto la differenza tra lei e te ed ho scelto te se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata a cara la verità io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa con la felicità molto molto più di prima io ti amero in confronto all'altra sei meglio tu ed ora in avanti prometto che quello che ho fatto un dì non farò mai più ognuno ha il diritto di vivere come può la verità mi fa male lo so per questo una cosa mi piace e quell'altra no se sono tornato a te ti basta sapere che ho visto la differenza tra lei e te ed ho scelto te se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata a cara la verità io ti chiedo scusa e sai perché sta di casa qui la felicità nessuno mi può giudicare nemmeno tu ok spero vi sia piaciuta io vi auguro una buona giornata di caldo anche oggi un buon solo un buon tutto un abbraccio grosso e grazie grazie ancora ciao ciao